potere su noi animali umani. Non è un animale, è una cosa enigmatica, al limite tra una molecola e una cellula, tra la chimica e la biologia, però esercita potere su noi animali umani, costringendoci a cambiare stili di vita, ma così può insegnarci molto sui nostri stili di vita. In prospettiva antropocentrica, Covid è dannoso e letale, ma dal punto di vista della natura e degli altri animali è innocuo, anzi giovevole, perché il virus più devastante, più dannoso per la natura e più crudele con gli altri animali è l'animale dominatore, l'uomo sapiens insipiens, siamo noi. Se io fossi una mucca, un vitello, un maiale, un pollo, un pesce, un cinghiale, un capriolo, un elefante, un ecosistema, farai, credo, un po' di tifo per il virus. Sintetizzo, dobbiamo difendere le nostre vite, ma anche ripensare i nostri stili di vita. Vincere il virus e tornare al tutto come prima non basta. Il poeta Ovidio ha scritto le metamorfosi. Beh, il poeta Covidio ci invita a una profonda metamorfosi etica ed ecologica, da animale di dominio, da animale di antropocene, ad animale pleromatico, cioè innamorato della pienezza dell'essere, della pienezza di vita di tutti gli esseri viventi e senzienti. Il libro di cui parliamo oggi affronta, a livello universitario, la questione animale. Io la ritengo una questione immensa, epocale, che colpisce al cuore i nostri comportamenti individuali e le strutture portanti della nostra economia e della nostra società. Il libro ha una prima parte pregiuridica, cioè etica, e una seconda parte giuridica. Io mi limito a estrarre dalla prima parte quattro ragioni che rendono gli altri animali meritevoli di rispetto, forse di amore, da parte dell'animale dominante. Ragioni che generano, possiamo dire, quattro distinti e convergenti animalismi. Il primo animalismo è quello del valore. Gli animali sono meraviglie di bioingegneria, di grazia, di fantasmagorica biodiversità. Possiamo parlare di animalismo ambientalista. Arricchiscono di splendore e interesse il mondo. Il secondo animalismo è quello della soggettività. Gli animali sono esseri senzienti, provano piaceri, dolori, affetti. Vivono comprensioni intelligenti, comunicazioni. Possiamo parlare di animalismo animalista. Il terzo animalismo possiamo chiamarlo animalismo umanista. È una difesa dell'onore dell'uomo. Il modo in cui tratta gli altri animali disonora l'animale uomo. È un errore razionale e morale. Il quarto e ultimo animalismo possiamo chiamarlo animalismo spirituale. Non conosco una tradizione ascetico-mistica che approvi e promuova la virtù della violenza. Per limitarmi all'orizzonte indiano, yoga, buddismo, jainismo, nessun uso violento degli animali è dharmico, perché il dharma include come elemento essenziale la non-violenza, ahimsa, la compassione universale, karuna. L'amore e compassione universale è la mente dell'illuminazione. La violenza sugli esseri senzienti viene ritenuta un ostacolo sulla via verso la liberazione sapienziale, verso la mente dell'illuminazione beatitudine, che non è concepibile come egoica e priva di partecipe empatia. I quattro animalismi convergono nel chiedere al legislatore umano, nelle costituzioni e nelle leggi ordinarie, linee normative sempre più rispettose dei diritti degli animali, degli altri animali, e nel chiedere all'università e a tutti gli ordini di scuola insegnamenti sempre più impegnativi di animal law, di diritto animale. Il diritto, negli ultimi due decenni, ha fatto grandi progressi, ma non è ancora soddisfacente. È affetto da tensioni che quasi lo rendono contraddittorio, gravemente contraddittorio. Lascio la parola, questo prodigio umano, ai sei presentatori, tutti altamente significativi. Non sono sei personaggi in cerca di autore, sono sei personaggi tutti autori. Li ringrazio e rivolgo a loro, a me, a tutti quelli che ci ascoltano, il mantra che costituisce il mio credo. «Om mani padme hum», mi inchino a te, gioiello che risplendi nel fiore del loto. Io lo interpreto così. Mi inchino a te, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore di loto del corpo cosmico. Tu sei meraviglia, non sprecarla. Possa la tua vita, la tua unica vita, ridurre la crudeltà e accrescere la bellezza della storia dell'essere. Buonasera a tutti. Grazie per essere qui con noi stasera. Animali, meraviglie cosmiche e vittime. o renderci, renderli, compagni di pianeta. Sono parole tratte dalla suggestiva poesia del professor Lombardi Vallauri nella parte introduttiva del volume. Tengo in modo particolare a ringraziare il professore per avermi coinvolta in quella che non è solo la presentazione di un libro di grande pregio e levatura, ma anche una proposta, un vero e proprio progetto, l'istituzione di corsi universitari di diritto animale. Premetto che non sono una studiosa del settore, non mi occupo di diritto, ma mi interesso da molto tempo alla questione della tutela e del benessere degli animali, che è anche al centro di alcuni miei scritti e componimenti musicali. Ma tornando al volume del professor Vallauri, veramente è un testo illuminante per vari aspetti. Mi ha colpita non solo per l'obiettività e l'equilibrio con cui vengono affrontati argomenti problematici, quali la sperimentazione e il rapporto tra religione ed etica animalista, tra scienza e fede, ma anche per l'analisi puntuale e rilevante anche sul piano linguistico delle leggi relative al trattamento degli animali non umani. Ne emerge un quadro desolante. Il diritto animale è in sostanza un diritto schizofrenico pieno di contraddizioni. Il professore utilizza un termine chiave, ancipite. È una legislazione che ha una doppia natura, ovvero da una parte vengono riconosciute agli animali soggettività, capacità di provare sofferenza, gli animali vengono riconosciuti come portatori di diritti, il diritto al benessere, a una vita degna. All'interno delle stesse leggi individuiamo le parole coscienza, dolore, disagio, spavento, esseri senzienti. Ma, come dire, questo diritto si ferma laddove comincia l'utilità per l'uomo. Proprio questo è un altro termine fondamentale, inutile. Si parla a un certo punto di norme concernenti il trasporto e in generale la gestione degli animali da macello e si afferma che devono essere evitate sofferenze inutili. Ne consegue che quando diventano utili i funzionali alle operazioni di carico, eccetera, sono però ammesse? Lo stesso per i polli d'allevamento. Si vietano le mutilazioni, ma poi si concede il taglio del becco per evitare che quelle povere vestie tenute stipate in condizioni miserrime si danneggino a vicenda, compromettendo ovviamente la qualità del prodotto carne. Vediamo in sostanza che la legge riduce i maltrattamenti di fatto a non maltrattamenti giuridici, li permette in quanto utili, funzionali, alle attività produttive dell'uomo. Il diritto ancipite in questo senso, dunque, è anche profondamente discriminatorio. Si adottano, cioè, due pesi e due misure per gli animali da compagnia o i selvatici rari, vedi tartarughe delle Galapagos, protetti e tutelati in sommo grado, e gli animali dal reddito o i selvatici comuni considerati pericolosi o buoni da mangiare, vedi lupo, cinghiale, i quali possono essere esterminati senza problemi, con metodi anche feroci. Non auguro a nessuno di voi di ritrovarsi nel bel mezzo di una battuta di caccia al cinghiale, è qualcosa di terribile. Senti le urla dei cacciatori, l'abbaiare dei cani e sai che in tutto questo un animale, magari anche una madre con i suoi cuccioli, sta cercando di scappare dall'inferno. Questo è un triste ricordo legato alla mia esperienza della Maremma, dove vado da circa 30 anni a un piccolo borgo che a malapena raggiunge le 100 anime. Ecco, quella dicotomia, quel bipensiero potremmo dire, di cui parlavamo in merito alle questioni di diritto animale, l'ho riscontrato anche negli abitanti di questo paese e delle campagne circostanti in generale. Le persone hanno anche qui un atteggiamento ancipite nei confronti degli animali, per esempio, i cani da compagnia vengono viziati, sono loro dedicate fin troppe attenzioni. I cani invece impiegati nelle attività venatorie sono tenuti talvolta in condizioni oltremodo lontane da quel che la loro natura richiederebbe, in gabbie isolate, esposte alle intemperie, una semplice scatola di legno dovrebbe ripararli dal torrido caldo estivo o dai rigori invernali, lontani dai loro simili, loro che sono animali fortemente sociali, e si accetta che vengano feriti durante la battuta di caccia per poi portarli dal veterinario in modo che possano essere ricuciti e tornare così nel più breve tempo possibile produttivi. Quindi, vedete, addirittura senza parlare di specie diverse, all'interno della medesima specie, il cane, differenze abissali nel trattamento, nel modo di concepire l'animale. Ora, la persona sensibilizzata su tematiche animaliste, osservando una tale polarizzazione, rimane perplessa. Io ho ricordi penosi di discussioni tra cacciatori con il loro atteggiamento indifferente, irriverente, nei confronti della sofferenza che provocano. Ricordo benissimo la mia frustrazione dovuta a due motivi principali. Primo, la consapevolezza dell'impossibilità di far considerare loro altri punti di vista. Secondo, lo stato di conflitto che veniva a crearsi nella mia stessa percezione relativa a queste persone. Persone che magari avevano verso il prossimo grandissimo riguardo e gentilezza, capaci anche di notevole altruismo e che poi, a seconda delle circostanze, potevano trasformarsi in freddi e spietati assassini verso certi animali. Perché tutto questo? Perché questa gente ha sempre visto fare così. I loro avi, nonni, genitori hanno sempre piegato la natura alle loro necessità. Ogni animale era considerato differentemente in base alla sua utilità. Era degno di vita in quanto utile, in quanto strumento di sussistenza. Se qualcuno, immagino, fin dalla tenera età, avesse insegnato loro che tutti gli animali sono meritevoli di rispetto, provano dolore, hanno diritto a una vita felice, beh, forse i loro comportamenti sarebbero stati e sarebbero tuttora diversi. E qui vorrei riallacciarmi alla questione dell'insegnamento e all'idea del professor Vallauri, a mio parere, pienamente condivisibile e attuabile dell'istituzione di cattedre universitarie dedicate al diritto animale. Una materia che potrebbe rappresentare un comune denominatore tra molte facoltà come giurisprudenza, economia, lettere e filosofia, biologia, medicina. Nel volume si propongono poi ulteriori passi avanti per la sensibilizzazione nei confronti degli animali e mi preme qui sottolineare prima cosa all'interno della facoltà di veterinaria la possibilità di un doppio corso di laurea per veterinario viettore, ovvero coloro che scelgono di studiare gli animali con lo scopo precipuo di difenderli da trattamenti violenti. In secondo luogo una maggiore severità nell'applicazione delle normative sull'obbligo di informazione in merito all'obiezione di coscienza in caso di esercitazioni di laboratorio che prevedono la sperimentazione animale. Un ricordo dei miei tempi universitari ha per protagonista una studentessa passata dalla facoltà di biologia a quella di lettere proprio perché disgustata dagli esperimenti sulle rane a scopo didattico che le erano stati imposti. Ricordo mi colpì molto la vicenda di questa ragazza e trovo che l'idea del professor Vallauri potrebbe venire perfettamente incontro alle esigenze e legittime aspirazioni di persone come lei. Condivido dunque le proposte accademiche del professore e vorrei lanciare un ulteriore input stimolo provando ad immaginare un'offerta formativa in questa direzione già a partire dai primi ordini scolastici commisurata ovviamente alle età e cognizioni reticenti all'interno di educazione civica fin dalle scuole elementari l'insegnamento di diritto animale. Una disciplina che raggiungerebbe indistintamente tutti i ragazzi quelli delle città che nella maggior parte dei casi conoscono poco le realtà del mondo animale o sono indifferenti o ne hanno persino timore e quelli dei luoghi più decentrati che in più non di rado sono indotti a considerare normale la sofferenza inflitta agli animali utili. Beh, se ci pensiamo i versi degli animali sono tra le prime cose che i bambini imparano. Gli animali entrano nel loro universo cognitivo ed emotivo molto, molto presto. facciamo in modo che non si perda piano piano questo legame. Per esempio stiamo attenti alle favole ai libri che diamo loro anche i libri sono importanti mi viene in mente una recente polemica da parte di alcuni gruppi animalisti che ha avuto tra l'altro molto seguito contro una casa editrice che pareva avesse deciso di reintrodurre in commercio vecchi volumi di una collana sugli animali della fattoria i cui disegni e contenuti suggerivano un'idea fasulla totalmente distorta di benessere animale maiali o galline felici di vivere in gabbie o recinte angustie o che felici di essere ingozzate e così via. Beh, mi sembra indicativo di una sensibilità crescente il disappunto causato dalla notizia di questa scelta editoriale notizia peraltro poi smentita dagli editori che se non ricordo male hanno dichiarato la collana oggetto di revisione in caso di futura nuova pubblicazione va bene i bambini in sostanza dovrebbero venire a contatto il prima possibile con una mentalità un modo di concepire l'animale tutt'altro che utilitaristico ma riferito al suo status di essere senziente dotato di diritti e di un mondo affettivo comparabile a quello umano una simile attenzione all'universo animale avrebbe tra l'altro inevitabili e desiderabilissime ripercussioni sui rapporti e le relazioni instaurate dal bambino con il suo prossimo insegnerebbe cioè una maggiore empatia apertura volontà di comprendere l'altro sul piano strettamente didattico in ordini scolastici avanzati ovviamente la disciplina di diritto animale andrebbe poi ad integrare materie scientifiche come anche letterarie e filosofiche potrebbe fornire notevoli spunti di riflessione sappiamo che in filosofia esiste un intero filone di pensiero non antropocentrico Pitagora Teofrasto allievo di Aristotele Plutarco e poi nel XVI secolo Montaigne e ancora più avanti Voltaire in seguito Schopenhauer un filone abbondantemente trascurato oserei dire vorrei ora richiamare alcuni brevi passi d'autore a titolo d'esempio cito dal trattato sulla pietà di Teofrasto opera bellissima in cui l'allievo si discosta notevolmente dall'idea del maestro sotto tutti i rapporti dunque la razza degli altri animali c'è apparentata ed è la stessa della nostra se qualcuno sostenesse che non diversamente dai frutti della terra il Dio ci ha dato anche gli animali per il nostro uso gli risponderei che sacrificando esseri viventi si commette contro di loro un'ingiustizia perché si fa rapina della loro vita siamo nel quarto secolo avanti Cristo continuo adesso con i saggi di Michel de Montaigne capitolo dodicesimo del secondo libro dei saggi Montaigne che ricordo muore nel 1592 qualche anno prima della nascita di Cartesio e qui in certi punti vedrete sembra quasi cosa impossibile ovviamente rispondere in toni polemici al teorico dell'animale macchina sentita quelle bestie che non hanno voce non mancano di avere comunicazione e rapporti reciproci e se non vi abbiamo parte è per colpa nostra poiché il modo di nascere di generare nutrirsi agire muoversi vivere e morire delle bestie è così simile al nostro tutto quello che togliamo alle loro cause motrici e che aggiungiamo alla nostra condizione come superiore alla loro non può in alcun modo venire dalla facoltà della nostra ragione non è per un vero ragionamento ma per una folle superbia ostinazione che ci mettiamo al di sopra degli altri animali e ci isoliamo dalla loro condizione e compagnia beh parole di un certo peso direi un'altra testimonianza interessante è a mio parere rappresentata da alcune sarebbero moltissime a dire il vero considerazioni di Arthur Schopenhauer forte oppositore delle teorie cartesiane avevo selezionato diverse sue opere ma per ovvie ragioni di tempo mi limiterò alla summa rappresentata da Iparerga e Paralipomena del 1851 soltanto quando sarà ben penetrata nel popolo quella semplice ed indiscutibile verità che gli animali sono nella sostanza e nell'essenziale ciò che noi siamo gli animali non saranno più senza diritti ed in balia del malumore e della crudeltà di qualunque rozzo mascalzone e non sarà più lecito a qualsiasi medicastro di sperimentare infliggendo i più atroci tormenti e innumerevoli animali ogni strano capriccio della sua ignoranza come avviene ai nostri giorni insomma la lista sarebbe lunga così come in letteratura mi viene in mente ad esempio Leopardi letto tra l'altro da Schopenhauer e da lui considerato fratello spirituale di Leopardi al di là del ribaltamento del pensiero antropocentrico presente nelle operette morali vorrei semplicemente rievocare ad esempio la sua dissertazione sopra l'anima delle bestie del 1811 pensate aveva solo 13 anni un testo a tutt'oggi poco conosciuto e pressoché assente nei programmi scolastici testo in cui Leopardi prende anche lui decisamente le distanze dalla concezione di matrice cartesiana e di recente poi concludo mi sono imbattuta infine in un'autrice del ventesimo secolo che onestamente conoscevo poco Anna Maria Ortese ascrivibile alla corrente del realismo magico alla pari di Massimo Bontempelli per intenderci nella raccolta postuma alle piccole persone sono riuniti diversi suoi scritti collocabili tra gli anni 40 e gli anni 90 spesso destinati a giornali e riviste in cui la Ortese espone le proprie tesi sull'atteggiamento di superiorità dell'uomo nei confronti degli animali tesi decisamente innovative e controcorrente all'epoca e purtroppo spesso inascoltate come lamentava la scrittrice cito da un articolo non incluso nella sottetta raccolta ma pur sempre degno di nota scusate finisco ma mi sembrano parole intense e profondamente significative quando si sente parlare di diritti della vita sempre il cuore di Taluni è in ascolto si vorrebbe sentir parlare dei diritti del vitello e l'agnello ma non ci sono agnelli e vitelli e tante altre specie della misteriosa e non delittuosa vita animale non hanno diritto al diritto di questi esseri muti che sono gli animali si può fare ciò che si vuole ogni giorno è prigione ogni alba è massacro ogni esecuzione è l'inferno ma appunto si potrebbe continuare all'infinito con intellettuali scrittori talvolta anche abbondantemente studiati ma di cui viene completamente o quasi taciuto il contributo letterario artistico a favore e in difesa degli animali sta a noi come dire decidere di ridare loro voce ricordare questi autori e rendere i nostri figli consapevoli della loro esistenza dell'esistenza di un interesse nei confronti degli animali non umani che ha attraversato tutti i secoli e di cui si fa però pochissimo menzione nelle scuole perché un giorno davvero gli animali possano diventare i nostri compagni di caneta grazie ringrazio profondamente la nostra Giulia Maruccelli autrice di un bellissimo libro Voci dal silenzio in cui fa parlare gli animali vittime e direi continuiamo con gli altri con gli altri cinque ci sono come dicevo prima sei presentatori che non sono sei personaggi in cerca di autore ma sono sei personaggi tutti autori in ordine alfabetico abbiamo Carla Campanaro che è avvocato niente meno che responsabile giuridico della LAV e insegna diritto animale a Oxford Sì eccomi eccoci che mi sentite allora a chi dire il parole per la Campanaro io sono ovviamente bravo che è la 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 che lavorano nella norma degli animali. Mi sentite? Professore, mi sentite? No, non si sente? Prano. Ho tutto l'ordine. Vediamo. Posso riconoscere? Sentite male? Adesso sì. Ok, perfetto. Benissimo. Ok, ricominciamo. Stavo dicendo, io prima di fare un piccolo intervento di contributo su questa pubblicazione, volevo dire quello che ha significato il professore nella mia esperienza nell'applicazione del diritto animale. Il professor Pallauri io lo considero uno dei soggetti più qualificati e illuminati che insieme a tanti altri in altri ambiti, magistratura, ambito scientifico, piuttosto che anche politico, per alcuni versi, ha portato in questi ultimi vent'anni a quello che sappiamo, cioè la valorizzazione, la concretizzazione della problematica della questione animale con i suoi scritti. Ovviamente ricordiamo tra i suoi più importanti il trattato di più diritto, la questione animale, in un ultimo questo libro di cui oggi parliamo, e quindi ha portato a, come dire, a rendere tangibile un qualcosa che molti di noi probabilmente sentivano, ognuno nei suoi ambiti di esistente. Ecco, mi piace essere qui oggi presente come rappresentante delle conseguenze anche pratiche che questa pubblicazione, questo lavoro scientifico, ha portato anche nelle aule di tribunale. Io, insomma, in questi ultimi 15 anni ho seguito tanti processi in giro per l'Italia, per la LAV, con tanti altri avvocati, per l'applicazione di questa norma di cui si è detto prima. Credo che, anche magari non sempre voluto, perché non eravamo organizzati, però credo che da un lato c'è stata questa copiosa produzione pregiuridico, anche quello che disegniamo è pregiuridico, la questione animale. Dall'altro io vi segnalo che ci sono stati in questi 15 anni, seppur la norma ha i limiti che sono sedetti prima, ci sono state tante persone aperte e riflettive nel campo della magistratura, della polizia, anche degli avvocati, nel ricepire i contenuti di questa, diciamo, dissertazione filosofica. E quindi quello che è accaduto, che mi piace dirlo in questa sede, anche per dare un po' di ottimismo e la speranza che ovviamente le cose migliorino ancora di più, è che abbiamo avuto una interpretazione della norma, seppur con i limiti enormi che riconosciamo tutti, perché sappiamo che la vera protezione passa per l'abolizione di determinate pratiche, altrimenti non potremo mai parlare di una reale, diciamo, tutela degli animali, se conteneranno a essere, diciamo, utilizzati e considerati come beni. Però, ecco, quello che è accaduto, e di cui io sono testimone per i processi che ho seguito, è che unendo il pregiuridico al giuridico, si sono avuti, diciamo, appunto un'interpretazione ampia della norma, e non letterale, ecco, passatemi il termine, ricordo che il professor Pallauri, appena la norma sugli animali, sul codice penale, nel 2004, fu approvata, e anche in seguito, ha sempre appunto diviso gli animali in due categorie, gli animali signorini, gli animali eletti, i cani e i gatti, e poi tutti gli altri animali. E questo è una cosa oggettiva, perché tutti gli altri animali sono oggetto di, praticamente, pratiche commerciali, che ne autorizzano la morte. Nonostante questo, abbiamo cercato, in ambito di tribunali, e lo abbiamo fatto grazie a queste pubblicazioni, in un ultimo, questo tomo che oggi presentiamo, a far passare delle tesi, passatemi il termine, che hanno portato, per esempio, al caso di Green Hill, che è citato in questo manuale, e che ci racconta un po' come, anche con norme spuntate e limitate, è possibile erodere i confini di quello che, appunto, è definito la disciplina sullo sfruttamento animale, e da avere, quindi, diciamo, un'applicazione della norma, a tal punto che ha permesso la chiusura di questo allevamento intensivo di animali destinati a sperimentazione animale. Io vi cito Green Hill, perché in realtà, lì, come in altri casi, c'è stato quel dualismo di cui si parlava prima. Trattiamo sempre da animali oggetto, quindi animali che devono essere usati per l'utilità umana, in questo caso la sperimentazione animale. Con un'applicazione illuminata delle norme sulla protezione degli animali, anche sostenendo tesi, non solo giuridiche, ma anche filosofica, siamo riusciti a far passare quantomeno il concetto che un animale, seppur oggetto, dovesse avere una serie di diritti nella sua vita, prima di essere destinato, come sappiamo, precisamente alla morte per la sperimentazione animale. Questo ha portato alla fine ad un accertamento di responsabilità penali per gli avori della gestione di questa struttura. Casi analoghi, penso al delfinario di Rimini, un processo che si è concluso con la condanna dei titolari e il sequestro della confisca di delfini, quindi non cani e gatti, delfini o animali destinati alla sperimentazione, perso i circhi. Numerose sono le condanne in materia di cirche, numerose sono le confisca di animali di circhi che vengono poi ricollocati in centri di recupero sia presso strutture in Italia che nel resto d'Europa. Penso anche a processi per l'uccisione di orsi. Noi abbiamo a giudizio l'ex presidente della provincia per aver ucciso l'orsa KG2 circa un anno fa. Ecco, questi sono diciamo dei segnali che la norma, seppur con enormi limitazioni, viene applicata in qualche modo in maniera estensiva e io sicuramente su questo riconosco il valore al lavoro che c'è stato nell'analisi e nelle pubblicazioni che anche oggi stiamo diciamo qui a discutere. Sulla proposta del manuale anche io approvo tantissimo l'idea di portare gli insegnamenti sugli animali nelle accademie e nelle scuole in Italia. Su questo io riscontro una sorta di ancora ad oggi mi dispiace dirlo un po' di sdoppismo in Italia su queste materie noto che la magistratura è molto più avanti nell'applicare le norme e anche portando avanti i tesi ardite grazie al lavoro degli avvocati e delle forze di polizia mentre invece l'ambito accademico c'è ancora un po' di come dire rifattarietà a voler valorizzare quelle che sono ormai un copioso diciamo materiale normativo ma anche giurisprudenziale che andrebbe valorizzato succede un po' quello che accadeva nel diritto ambientale tanti anni fa quindi sicuramente la proposta dell'istituzione dei corsi su diritto animale è un qualcosa che è auspicabile e che secondo me avverrà breve sicuramente quello sul mondo medico veterinario è ancora più urgente su questo è quello che mi avvio alla chiusura del mio breve intervento su questo io penso che sia necessaria una vera e propria rivoluzione della formazione il professor propone un corso solo per i veterinari in qualche modo obiettori io mi accontenterei in questa fase di un corso ma anche soltanto di un insegnamento appunto nell'ambito della facoltà di veterinaria che aiuti i veterinari anche coloro appunto non obiettori a conoscere le norme di protezione degli animali e anche le diciamo le disposizioni filosofiche del pregiuditico in materia proprio perché ad oggi abbiamo una situazione paradossale per cui chi studia veterinaria studia probabilmente tanti aspetti che riguardano l'utilizzo degli animali nei vari ambiti ma è totalmente inconsapevole del quadro normativo di riferimento quindi anche questo sarebbe sicuramente se posso lanciarlo come proposta qualcosa che sicuramente sarebbe cruciale per migliorare la protezione degli animali questo è insomma il mio intervento per raccontare dal mio punto di vista l'importanza di questo non solo di questo ultimo lavoro ma anche dei precedenti di come noi l'abbiamo utilizzato nei tribunali di tutta Italia grazie ecco qua che succede? sei visibile anche se vedi lei in questo va bene ecco qua ecco beh ringrazio moltissimo Carla e mi emoziona anche il pensiero che che lei rappresenta al tempo stesso Napoli Oxford e quello che ha fatto per Green Hill e in genere per la parte proprio giuridica della LAVA è grandissima e adesso dovrebbe intervenire Dora Grieco che è fondatrice e presidente dell'associazione Vivere Vegan che anni fa ha organizzato delle cose notevolissime dieci giorni a Firenze e adesso mette grandi manifesti in tutta Italia ascoltiamo Dora Grieco un altro dei sei personaggi tutti autori sì buonasera a tutti i presenti spero mi sentite bene non so un cenno grazie allora intanto mi unisco anch'io alle due relatrici nel fare i complimenti e ringraziare Luigi Lombardi Vallauri per questo volume che andiamo a presentare oggi che trovo veramente un testo fondamentale ricchissimo di spunti di riflessione e trovo davvero anche io indispensabile e urgente attuare le proposte di istituire cattedre e corsi universitari di diritto animale nell'università così trovo veramente importante portare l'insegnamento in tutte le scuole quindi fin dai primi livelli sulla questione animale cioè come hanno già detto prima le due relatrici iniziare a parlare della questione animale fin dai primi anni di età ai ragazzi proprio per contrastare i luoghi comuni tantissimi luoghi comuni che li fanno crescere appunto con un'idea errata secondo noi chiaramente interrata nel libro di luigi lombardi vallauri si parla appunto si parla di tantissime cose un libro che devo dire ho letto quasi come fosse un romanzo perché non è mai noioso è sempre tutto molto interessante viene voglia di sottolineare ogni singola parola di questo libro perché parla veramente di tanti tanti aspetti invito veramente tutti a leggerlo oltre che speriamo portarlo appunto nelle università lui accenna comunque anche una questione molto importante che è quella della crescita culturale ovvero cioè possiamo provare a cambiare le leggi migliorarle parlare con i politici se però non avviene la crescita culturale a livello proprio di tutta la popolazione su questi temi possiamo andare poco avanti quindi ci vuole una consapevolezza di tutte le persone affinché sia le leggi quindi che la politica che le regole insomma che ci conducono in questa società possano accogliere veramente il tema della questione degli animali progetto vivere vegan è attiva dal 2001 proprio su questo tema il tema della cultura quindi noi ci siamo dati un po' questo compito di informare e portare l'attenzione della popolazione sulle sorti che riserviamo agli animali proprio per affermare e difendere i loro diritti non è un compito facile Vallaure anche lo scrive nel suo volume le persone non vogliono pensare agli animali cioè è un argomento che per la maggior parte delle persone umane è un argomento poco interessante noi siamo abbastanza stasera siamo qui vedo siamo 40 persone probabilmente tutte interessate a questo argomento probabilmente tutte noi ci diamo da fare per questo per portare la questione degli animali su all'attenzione di tutti gli altri però è quindi è un compito comunque molto difficile perché per la maggior parte invece questo argomento è un argomento di poca importanza ma noi siamo qui proprio per questo per far sì che questa attenzione cresca come come associazione diciamo Luigi Lombardi Vallauri mi ha chiesto di parlare un po' della nostra attività appunto lui ha detto abbiamo fatto tante cose effettivamente dal 2001 siamo sempre stati molto attivi sulla comunicazione cioè comunicare cercare di arrivare soprattutto alle persone che sono lontane dal nostro movimento lo abbiamo fatto per cercare di affermare la normalità dell'essere vegan vorrei dire io perché poi alla fine essere vegan è molto normale cioè io lo sono da 27 anni circa quindi per me chiaramente è normale essere vegan ma è anche molto semplice e mi resta anche difficile a volte comprendere come mai ecco le persone non lo sono ecco è forse più per me è più difficile capire come mai le persone non sono tutte vegane tanto è facile quanto appunto come fare per raggiungerle comunque il nostro il nostro operato diciamo è dal dal 2001 siamo molto attivi chiaramente online ora ora più che mai grazie ai social riusciamo a far arrivare il nostro pensiero a tantissime tantissime persone abbiamo realizzato mostre convegni festival anche uno spettacolo teatrale organizziamo cene che coinvolgono chef di livello anche importante ovvero sono tutte pratiche che vogliono far vedere ripeto questa normalità dell'essere vegan essere vegan non è speciale è semplicemente come chiaramente tutti voi già sapete voler vivere senza sfruttare uccidere nessuno e si può fare si può fare benissimo il problema appunto è far arrivare questo alle altre persone allora in quest'anno anzi dall'anno scorso abbiamo iniziato ad affiggere grandi manifesti parliamo di manifesti sei metri per tre sui muri di tantissime città italiane proprio per arrivare alle persone che non sono già della nostra idea perché il nostro compito non è tanto quello di parlarci addosso ma far arrivare il nostro messaggio a chi è lontano e quindi abbiamo pensato di utilizzare quelli che sono poi gli strumenti della comunicazione del marketing che tutti usano che usano le aziende che sfruttano e uccidono gli animali tra l'altro con delle enormi falsità e quindi abbiamo appunto scelto di utilizzare appunto la strada della pubblicità fra virgolette oppure contro l'informazione o pubblicità progresso chiamiamola come vogliamo vi faccio vedere anche molto velocemente alcune delle nostre campagne forse alcuni di voi già già le conoscono non so se qui si vedono comunque ecco questi sono alcuni dei manifesti non so se si può se si riescono riesco a inquadrarli immaginatele appunto grandi ecco qui si vedono si vedono meglio magari sei per tre sui muri della città mi sembra un po' complicata la cosa comunque dai cerchiamo comunque ecco questo qui sul latte lo trovo molto significativo siamo abbastanza stanchi di vedere falsità che raccontano appunto come hanno detto prima le altre due persone che sono intervenute raccontano di animali felici di essere allevati e uccisi questo è un manifesto che racconta in breve vuole portare l'attenzione su quello che è lo sfruttamento degli animali per la produzione di uova uova latte ancora oggi molte persone non sanno che per produrre uova e per produrre latte gli animali vengono uccisi cioè siamo veramente indietro 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 nel riuscire ad arrivare ad informare le persone perché non vogliono ascoltare ecco questo è un po' il problema il punto sul quale magari tutti noi dovremmo forse impegnarci sempre di più cioè come fare a rendere a eliminare la banalità dell'argomento degli animali perché questo pensano che la maggior parte delle persone pensano che parlare gli animali sia un argomento banale quindi questo perché chiaramente perché sono condizionate dal pensare comune che perché la tradizione è sinonimo di giusto insomma il nostro compito è sfatare i luoghi i luoghi comuni ma è anche quello in qualche modo di dare comunque delle risposte perché chiaramente evidenziare i problemi senza dare un aiuto dare le risposte serve a poco quindi come associazione abbiamo un sito ricco di informazioni siamo a disposizione di chiunque chiunque ci contatti per avere delle delle dritte no sul come fare a iniziare una vita senza lo sfruttamento di altri esseri senzienti e tra l'altro sul nostro sito da poco abbiamo messo anche online una sezione dedicata proprio a chi vuole intraprendere un'alimentazione 100% vegetale vegan starter menu questo è il nome che gli abbiamo dato c'è un modo per dire se volete partire anche dalla tavola perché poi alla fine gli animali che vengono uccisi per la nostra alimentazione sono la stragrande maggioranza sono un numero indicibile di esseri senzienti che viene ucciso per questo però poco importa poco importa alle persone basta accendere la televisione oppure appunto guardare la pubblicità sentire i discorsi che fanno le persone vedere i ristoranti quando sono aperti chiaramente che ci sono nelle città cos'è che viene proposto vengono sempre proposti gli animali e i fatti a pezzi questo è un po' il discorso invece appunto ritorno al discorso di prima e qui comunque concludo essere vegan è semplice è normale volendo pensare di vivere senza sfruttare uccidere nessuno si può fare ripeto io lo sono da 27 anni senza nessuna fatica cioè la fatica non è essere vegan la fatica è spiegare perché lo sei cioè o meglio cercare di portare le altre persone a esserlo perché se lo sono solo io vegan agli animali cambia poco cioè posso con il mio con la mia scelta di vita posso aiutare una piccola parte di animali ma bisognerebbe che tutti quelli che dicono di amare o voler rispettare gli animali inizino veramente nel loro quotidiano a fare a fare qualcosa di concreto lo scrive anche Luigi Lombardi Vallari nel suo nel suo libro proprio all'inizio lui scrive questo lo leggo un attimo lui dice proviamo intanto a cominciare da me chiaramente si riferisce a lui stesso proviamo intanto a cominciare da me senza aspettare per fare la cosa giusta che la facciano anche tanti altri questo è quello che ho sempre pensato io e veramente ripeto leggendo il libro di Luigi Lombardi Vallauri ho trovato tantissime delle mie riflessioni scritte chiaramente in maniera ineccepibile spiegate come solo lui sa fare per cui lo ringrazio veramente veramente tanto e niente un invito a tutti quello di consultare il nostro sito vivere vegan punto org di sostenerci sostenerci nel nostro lavoro anche l'affissione dei manifesti vuol dire un costo ogni manifesto in ogni città o più manifesti diciamo nella stessa città comunque per raggiungere ogni città ci occorrono circa 500 euro quindi noi abbiamo affisso circa 300 manifesti in quest'anno parlo di grandi manifesti quindi una spesa molto importante però pensiamo che vada fatto vada fatto perché dobbiamo raggiungere le persone ripeto lontane dal dal nostro pensiero cioè dobbiamo in qualche modo arrivare a chi è lontano da noi grazie grazie Dora io sono convinto che quello che fate accresce la bellezza e l'amitezza della storia della terribile storia dell'essere io sto finendo un libro sulla crudeltà e sono rimasto stupefatto della crudeltà dell'uomo ho scoperto che la crudeltà legale è quasi sempre molto peggiore della crudeltà criminale e nella crudeltà rientrano certamente anche i comportamenti nei confronti degli animali adesso continuando in ordine alfabetico dovrebbe intervenire Lorenzo Guadagnucci giornalista autore di libri molto notevoli e fondatore promotore della radio Restiamo Animali che è forse la radio animalista più impegnata d'Italia a cui ho molto contribuito sono molto contento di sentirlo grazie buonasera a tutti spero che mi sentiate grazie per l'invito grazie ovviamente a Luigi per questo suo contributo innesimo che per noi è come al solito una lezione con Luigi ci siamo incontrati qualche anno fa in coincidenza grossomodo con l'inizio della nostra trasmissione che va avanti se non erro dal 2012 quindi otto anni siamo andati in onda con oltre 500 puntate e Luigi è stato fin dall'inizio una delle voci di Restiamo Animali che è un programma radiofonico settimanale facciamo mezz'ora e il suo contributo è stato ovviamente quello che gli è più congeniale e quindi il pensiero la filosofia la riflessione su temi che via via da un lato suggeriva lo sviluppo anche storico della riflessione attorno agli animali ma anche l'attualità quindi anche i contributi di riflessione appunto su eventi su fatti come tutti voi sicuramente tutti noi sappiamo Luigi è straordinariamente radiofonico c'è la sua chiarezza così una qualità di resa la radio che è eccezionale quindi ci siamo avvalsi di questo suo contributo ma la cosa che vorrei portare come contributo a questo incontro ha a che fare direi con tre cose uno è questo incontro che abbiamo avuto con lui e anche la nascita della nostra trasmissione che a pensarci a distanza di qualche anno a me sembra che sia un segno anche questo fra gli altri di una maturazione di una crescita nella società della questione animale ce lo dice un po' il percorso che abbiamo fatto noi siamo un gruppo di attivisti ma anche giornalisti la nostra è una trasmissione che ha se qualcuno l'ha ascoltato un carattere prettamente giornalistico ci occupiamo di attualità diamo notizie che riguardano gli animali via via che succedono settimana dopo settimana a questo aggiungiamo poi appunto la riflessione l'approfondimento anche aspetti più specifici come ad esempio la cucina quindi abbiamo una rubrica di cucina per offrire occasioni come diceva prima d'ora di sperimentare anche questo mostro che sembra essere la cucina a base vegetale e chiunque l'abbia sperimentata scopre che è un mondo straordinariamente vario allora questa trasmissione appunto nasce da persone che sono diventate col tempo animaliste che si sono avvicinate alla questione animale siamo tutte persone che hanno cominciato a pensare a questo aspetto o perlomeno a concentrarsi su questo aspetto intorno a quegli anni lì quindi una decina di anni fa e siamo persone che arrivano da esperienze di attivismo in campo sociale politico politico in senso lato non partitico non istituzionale ma di impegno nella società verso forme di giustizia di cambiamento di trasformazione di una società che a noi non soddisfa non ci piace crediamo che sia dominata appunto dall'ingiustizia e dalla diseguaglianza in questo percorso abbiamo incontrato la questione animale abbiamo scoperto tantissime assonanze fra i temi che ci stavano a cuore è stata quasi come un'illuminazione e parlo per me perché per me la questione animale in realtà è più antica la mia scelta verso un'alimentazione vegetale che sarebbe molto tempo fa e però non avevo mai fatto quel salto o perlomeno messo a fuoco questo aspetto questa mia attenzione agli animali alla loro sorte il mio rifiuto di contribuire a distruggere le loro vite come una questione politica importante quindi ci ha voluto del tempo anche per i motivi a mio avviso che diceva Dora cioè che viviamo comunque in una società che ci spinge in una certa direzione e quindi la sottovalutazione della questione animale fa parte della nostra cultura una cultura antropocentrica come poi insomma sappiamo e abbiamo imparato a capire meglio e però evidentemente questo tema anche per chi viene da esperienze di attivismo di riflessione sulla giustizia che di ambientalismo ad esempio pur avendo tutti gli strumenti per mettere a fuoco questa questione lungamente non siamo riusciti a farlo poi qualcosa è sbocciato io credo che intorno a quegli anni molte cose siano cambiate oggi la questione animale è sicuramente più viva di quanto non fosse 20 o 30 anni fa e la riflessione di Luigi questo stesso libro lo dimostra ma con lo sviluppo che c'è stato a livello ad esempio giuridico delle normative riguardanti gli animali ecco credo che questo incontro anche con lui abbia avuto questo segno questo senso e abbia lasciato questo segno come è stato questo incontro io l'ho trovato molto interessante e molto sorprendente perché dal nostro punto di vista quindi un approccio animalista se vogliamo un po' anomalo comunque che aveva questa origine dall'ambito sociale e politico quindi con la nostra visione di insieme che arriva all'animalismo da altre prospettive ci siamo trovati con Lombardi Vallauri che ha un approccio filosofico spirituale di un approfondimento che veniva da altri mondi e una cosa che si ritrova in questo libro e che abbiamo anche avuto l'opportunità di mettere in pratica nella nostra trasmissione sono gli altri due temi che volevo indicarvi uno è il contributo a mio avviso molto molto importante che ci arriva dalla sua riflessione sulla non violenza la non violenza per Luigi come sappiamo ha questa origine ce l'ha insegnato lui nell'India nel nel jainismo la IMS e ha quindi il suo fondamento nel pensiero in questa tradizione di un paese così lontano da noi e però ci riguarda da vicino perché lo sviluppo della non violenza anche attraverso le forme che ha avuto nel novecento fino ad oggi ci parlano degli strumenti delle visioni quindi di una opportunità politica di inserire la non violenza in un orizzonte di cambiamento attraverso le figure di Gandhi di Capitini che è uno dei degli uomini politici a mio avviso più interessanti del novecento ma è anche uno dei più dimenticati dei più sconosciuti è stato anche è stato ignorato diriso sopportato anche negli ambienti che aspiravano almeno così dichiaratamente a un cambiamento sociale profondo ma questo personaggio un po' filosofo che non si capiva bene che atteggiamento avesse con la religione e che si interessava agli animali è stato il fondatore della società vegetariana italiana era un personaggio eccentrico ecco Luigi con questo suo contributo a mio avviso ci porta a dover considerare la non violenza in una dimensione nuova più profonda con maggiore attenzione e io credo che qualsiasi prospettiva di cambiamento dalla nostra idea è che la questione animale sia parte di un movimento più grande di giustizia e che comporti una lotta che comporti un impegno politico noi crediamo in questo ci riconosciamo in questa in un'ipotesi di cambiamento profondo che riguarda anche gli animali e che non può escludere gli animali ecco includere in questa visione il tema della non violenza credo che sia una cosa fondamentale l'ultimo aspetto vicino a questo ha a che fare proprio con chi ha appunto una matrice di attivismo più in ambito politico l'incontro con Luigi implica anche un'attenzione maggiore di quella che tradizionalmente è concessa in certi ambienti alla questione spirituale che è una questione fondamentale molto molto snobbata in ambienti di impegno politico viene considerata quasi un lusso quasi un'ingenuità le volte ecco io credo parlo per me nella mia riflessione nella mia anche crescita come persona l'incontro con Luigi ha avuto questo significato di accogliere la questione spirituale dentro la mia visione del mondo e capire quanto sia vero uno dei suoi temi chiave scusate il gatto è un po' intemperante e cioè la necessità di un incontro tra la tradizione occidentale e quella orientale ecco questo secondo me è un tema fortissimo sul quale non abbiamo ancora forse riflettuto fino in fondo ma che io vedo come quello più più denso di prospettiva in questo senso credo che incontrare Luigi sia stata veramente una grande fortuna grazie mi sento in sintonia profonda con quello che ha detto Lorenzo spero di continuare a collaborare spero che il virus ci consenta di rifare quelle serate culturali che loro organizzavano prima a Settignano poi qui dai salesiani e credo che continuando in ordine alfabetico dovrebbe intervenire Giuseppe Mastro Minico che è l'editore del libro che presentiamo se non c'era lui con il suo gruppo di Gesualdo io che sono solo capace di fare cose belle e tra le cose belle non c'è il promuovermi non credo che avrei fatto il libro ho dei ricordi meravigliosi di quel posto a Gesualdo dove correggevamo le bozze e loro hanno anche il grande merito di avere pubblicato i madrigali del grandissimo musicista Gesualdo e quindi la mia gratitudine è grandissima se il libro è una cosa buona loro certamente l'hanno fatta maestro grazie per questa presentazione buonasera a tutti innanzitutto e grazie per questa ospitalità anche alla società colombare sono veramente felice e onorato beh io ho seguito con interesse tutti gli interventi mi fa piacere conoscere Lorenzo Guadagnucci seguirò un po' la sua linea e anche se il professore Vallauri mi dà l'incipit in effetti la Gesualdo Edizione dato il nome che la ispira ha nel proprio DNA una innata carica visionaria il maestro l'ha detto Carlo Gesualdo è un madrigalista cinque-seicentesco autore di opere considerate oggi come patrimonio imprescindibile della cultura occidentale e quindi è annoverato tra gli artisti più visionari della storia e qui l'idea di una collana che accogliesse autori e temi appunto visionari legati cioè per biografia impegno scelte contenute all'idea di un futuro migliore diciamo pure di un domani auspicabile ma di qui il desiderio che la collana fosse inaugurata da una personalità o meglio da chi tra i vari appellativi gode della qualifica di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di un maestro con il filo dell'orizzonte negli occhi così spesso ho sentito parlare del maestro Vallauri e su un tema tra l'altro quello del diritto animale che è coltivato senz'altro da Vallauri da oltre un trentennio ma che ancora costituisce un argomento spinoso amato come diceva dalla collega precedentemente da tutti noi presenti in questa chat oggi che tra l'altro nonico difetto non fa sentire gli applausi che vorrei poter concedere a ognuno di voi però è anche al tempo stesso un tema osteggiato un argomento che da un lato registra un diffuso attivismo ma che dall'altro lato necessita ancora di una struttura teorica etica e giuridica al tempo stesso che sia salta e credibile cioè capace di vincere tutte quelle resistenze vincendo le quali riusciremo a legittimare un cambiamento l'autore per visionare quindi come dire tanto desiderato quanto opportuno la scrittrice la dottoressa Giulia Marucelli mi perdonerà se ecco lei poneva storia editoriale al plurale ma la mia per forza di cosa questa sera deve essere una storia editoriale al singolare la storia di un libro del suo autore Guadagnucci ricordava i primi incontri con Vallauri vorrei ricordare anche il mio a questo punto ho conosciuto il professore Vallauri alcuni anni fa in un convegno verso l'università del Sano e mi rimase affascinato fu annunciato lì durante quel convegno la pubblicazione si disse del primo manuale di rito allunale il riferimento era al voluminoso tomo del professore accurato nel celebre trattato di più diritto diretto da Stefano Rodocano che è stato citato in origine compresi lì però il valore profondo di quelle formule che spesso gli specialisti mi inserisco anch'io tra questi occupandomi poi di storia del diritto sul piano accademico in una formula ripetuta forse con troppa disattenzione e superficialità e meritevoli di tutela che oggi è anche un titolo fortunato ma per fortuna è anche l'emblema di un pensiero insomma in quell'occasione il valore pensatore che per chi come me ha coltivato come dire i terreni della giurisprudenza è conosciuto e studiato nella sua opera giusta filosofica e apprezzato per il punto privilegiato di osservazione come maestro inevitabile che accada quando si tratti di personalità come lei che hanno la forza di muoversi sui crinani crinani che al tempo stesso separano e uniscono più cose però in quel convegno l'aula divenne qualcosa in più se mi si passa la battuta direi che divenne l'oggetto del desiderio l'oggetto di una persona prestata a diventare anche editore con il sogno di pubblicare libri destinati a lasciare un segno io indipendentemente dal fatto che mi sia l'editore ma sono intimamente convinto che scritti animali è uno di questi libri che lascerà il segno e questo perché il libro che appunto oggi presentiamo raccogliendo scritti riordinati sotto lo sguardo vigile attento dell'autore fa sì vorrei poter dire che per la prima volta si sia data sistemazione di un pensiero militante come pochi ne è dato incontrare nella sua autorevolezza questo libro diceva il mestro è stato composto tra Firenze e Gesualdo Gesualdo il nome Gesualdo a una duplice valenza il nome dell'autore materialista visionario dell'antichità ma anche il nome di una ridente cittadina nella verde artigna io ho preteso che il maestro ci venisse a fare visita più volte toccando con mano allo spirito lui sì che può permettersi come dire una simile trascendenza con cui abbiamo intrapreso la nostra avventura editoriale e devo dire che con lui vicino tutto diventa più chiaro amabile perché no sorridente d'altra parte l'umorismo e gli aforismi di Vallauri riempiono le giornate di sacrosante verità però invertendo le parti l'editore in questo caso è colui che ha toccato con mano il significato di formule altrimenti troppo sintetiche capire che cosa sono le svolte convergenziali appunto i meritevoli di tutela si diceva prima i deboli non compresi tra le vittime del potere economico e del potere sociale e nella composizione del libro che si colloca al primo gradino di quella graduatoria che dagli animali poi conduce più in alto agli embrioni ancora più su agli esclusi sociali anch'io ho avuto la mia svolta personale perché da allora sono diventato se non vegano quantomeno vegetariano ho avuto la mia svolta etica oltre che giuridica vedete sul tema degli animali della tutela degli animali io ho sempre oscillato tra due poli diversi senza saper poi prendere effettivamente una posizione propendere per il valore o la soggettività degli stessi o la soggettività degli ostessi cioè tra l'essere gli animali ben indispensabili diciamo così nell'equilibrio generale della biodiversità oppure ad essere senzienti comunicanti capaci di sviluppare emozioni sviluppare capacità la svolta la svolta per essere chiari è consistita nella scoperta dell'umanismo dell'uomo lo diceva Valauri proprio il principio di presentazione dell'uomo che tra gli obblighi principali annovera la difesa della nobiltà commessa alla sua natura del proprio onore e della propria dignità il che vuol dire garantire quel meraviglioso passaggio che va dall'articolo 3 della Costituzione e conduce direttamente all'orizzonte più ampio diceva la non-violenza ma la non-violenza intesa appunto come visione del mondo ecco che torniamo al tema visionario una visione edonia a orientare il cammino dell'umanità mi pare dica così il che risolve neanche a dirlo gran parte delle preoccupazioni giuridiche perché tradurre l'etica sul piano giuridico non è neanche una cosa tanto semplice ma anche qui l'autore lancia un messaggio di speranza il diritto sostiene Vallauri nel testo è una grossa macchina coercitiva lavora per tipi astratti deve ricorrere a trucchi tecnici che rendano quel diritto praticabile e fin qui nulla question mi sento di ripetere la cosa che si insegna agli studenti del primo anno di scudenza tuttavia averte maestro il diritto democratico non può imporre che visioni largamente condivise nel corpo sociale e negli organi rappresentativi e qui la svolta se manca un'ampia condivisione sociale o culturale anche il diritto democraticamente prodotto c'è del passo questo sarà formalmente valido ma privo di effettività sarà anche un diritto di per sé monco allora di qui la sfida delle sfide pensare a un diritto che sia all'altezza della riflessione etica una sfida che con questo libro scritto animale abbiamo voluto affrontare in pieno andando contro le abitudini mentali radicate di cui si dicevano gli interventi precedenti piegandone però per quanto più sia possibile la resistenza si è citato il sottotitolo del libro per l'istituzione dei corsi universitari di diritto animale beh io di questo sottotitolo vado fiero perché ho insistito con il maestro Vallauri perché esso comparisse sulla copertina tra l'altro molto bella del libro stesso quindi una proposta ben precisa promuovere l'istituzione se non di cattedre di corso universitario per lo studio del diritto animale una proposta visionale anche questa avanzata devo dire con il libro ufficialmente per la prima volta se bene con la proposta concretamente Vallauri rappresentata in più sede fermo restando che dare veste accademiche veste accademiche ad una materia di studio che tale riconoscimento pure meriterebbe non è veramente tutto e qui mi ricollego Giulia Maruccelli tra l'altro il miglior contributo vorrei poter dire dottoressa che l'editoria di buona volontà può dare alla causa che anche questo pomeriggio viene celebrata in un sede autorevole è intervenire sul tessuto sociale sulle dinamiche del consenso connettere tra loro le discipline scientifiche che aiutano la riflessione etica e quella giuridica saldandole però nel rapporto delle stesse con la società contribuire a creare le condizioni favorevole dell'osservanza di leggi capaci di tradurre sul piano giuridico contenuti morali indispensabili per il futuro maestro Vallaudi io ho voluto sintetizzare così il suo pensiero racchiuso all'interno del nostro libro mi permetta di dire così vorrei tradurre così l'impegno sotteso alla nostra lotta editoriale guardate in una di quelle meravigliose cene che popolano gli incontri degli autori con i loro editori chiediamo a Ballauri chiediamo perché certo non sono solo in questa esperienza ho dei magnifici amici che mi accompagnano chiediamo a Ballauri se ci fossero buone speranze di portare a termine vittoriosi la battaglia intrapresa l'importante l'importante è che l'azione sia giusta non che sia vincente non il professore aggiungendo subito dopo credo tuttavia che alla lunga il giusto sia anche un po' vincente lo crediamo anche noi caro professore se abbiamo cercato con insistenza la pubblicazione proprio di questo libro cosa per cui ancora la ringraziamo insieme a quanti vorranno tra l'altro unirsi al nostro percorso sono felice di essere stato con voi questa sera e grazie veramente per avermi invitato continuo chiudo qui e continuo ad ascoltare gli altri interventi grazie beh naturalmente ti sono gratissimo e in grande sintonia ho trovato magistrale la tua sintesi sul mio libro vabbè siamo professori tu insegna all'università di Napoli e mi hai dato mi hai dato la prova adesso terminiamo con Marco Verdone con cui abbiamo fatto notevoli esperienze che riguardano l'isola di Gorgona un'isola che può essere indicata proprio per la guida del dottor Mazzerbo direttore del carcere e di Marco Verdone una specie di prototipo un prototipo di armonia dove i detenuti tutti per gravi motivi interagivano con animali ma questo ce lo racconterà Marco io sono un appassionato sostenitore del glorioso esperimento di Gorgona naturalmente anche lui è un autore ha scritto molti libri l'ho già detto siamo qui tutti personaggi non in cerca di autori di autore ma tutti personaggi autori grazie grazie non lo stiamo trovando pare non sia presente nella forse per qualche strana ragione se non c'è Marco Verdone ecco comunità onda mica ecco qua mi sentite? sì Marco non ti sentivamo prima adesso ti sentiamo quindi ricomincio da capo? sì ok allora intanto dicevo che salutavo gli amici e le amiche che vedo in video con i quali abbiamo condiviso molte cose su questo tema e e cercherò di essere anch'io sintetico toccando alcuni punti perché ovviamente la materia è molto vasta e appunto mi unisco a ringraziamento verso Luigi perché è stato uno delle persone che l'ha trattata in modo rigoroso sistematico e come diceva anche Lorenzo molto sempre molto lucido e questo è una una sua un suo pregio una sua caratteristica fondamentale per arrivare a quello che Dora diceva che è il nucleo del nostro impegno uno dei nuclei del nostro impegno cioè quello della comunicazione la materia è vasta è complessa e spinosa tanto che dicevo ha richiesto l'elaborazione in un intero volume del trattato di biodiritto che è stato poc'anzi citato ovviamente voglio ringraziare anche la casa editrice e sono molto felice che venga da una zona come l'Irpinia perché è una zona di gente tosta e quindi questa questo slancio da quelle zone anche difficili però di persone semplici ostinate e forti forse non è un caso per questa per questa tematica che richiede richiede la virtù della della costanza della resistenza e anche della dell'avere una strada chiara dritta perché le forze cosiddette nemiche della vita per usare un termine a me caro che è un termine prettamente omeopatico le inimical force to life sono continuamente a sollecitarci rispetto al testo che ovviamente scritti animali sul quale non entro più di tanto perché è talmente vasto e poliedrico eccetera volevo solamente ricordare che che oltre alle fini di squisizione di diritto ed etiche mi piace molto che è una caratteristica di Luigi l'uso creativo spregiudicato delle parole dei concetti ricordo uno tra i tantissimi il servizio carnefice obbligatorio che sarebbe un'attività diciamo ipotetica ovviamente irrealizzabile ma fondamentale per capire cosa accade ad un animale quando sta per perdere la vita e e forse questa cosa dovrebbe essere interiorizzata da tutte le persone che si nutrono di altri esseri viventi prima di arrivare a raccontare due cose sul mio impegno personale e professionale volevo fare un passo indietro e arrivare un attimo ad un paio di punti riguardante la mia professione veterinaria io sono un medico veterinario che ha avuto la fortuna diciamo due fortune nel suo cammino professionale una di incontrare l'isola di Gorgona il carcere con il quale mi sono confrontato circa 30 anni per arrivare a risultato che poi vi dirò e secondo per fortuna subito quasi vicino alla prima conoscenza quello della medicina omeopatica che mi ha consentito di ribaltare totalmente il mio concetto di salute di malattia di essere malato e di essere curato e di rivedere tutti i rapporti di cura e di potere all'interno del del mondo vivente che mi ha consentito anche di avere strumenti fondamentali per sopravvivere in Gorgona e per mantenere vivo quel sogno che feci circa 30 anni fa che Gorgona poteva diventare un luogo di assoluta non violenza nei riguardi degli altri esseri animali non umani allora a tale riguardo voglio solamente citarvi un passaggio del nostro giuramento professionale cioè il giuramento professionale dei medici veterinari che dice che entrando a far parte della professione e consapevole dell'importanza dell'atto che compio prometto solennemente di dedicare le mie competenze e le mie capacità attenzione alla protezione della salute dell'uomo virgola alla cura e al benessere degli animali favorendone rispetto in quanto esseri senzienti quindi al primo posto non c'è l'animale non umano ma c'è l'uomo l'umano e infine in fondo aggiunge di svolgere la mia attività in piena libertà indipendenza di giudizio cosa che noi spesso veterinari dimentichiamo e di agire secondo scienza e coscienza con dignità e decoro conformemente ai principi etici e deontologici proprio della medicina veterinaria ma andando al al nostro codice deontologico vorrei farvi notare che l'articolo 1 in cui si parla del medico veterinario che svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell'uomo solamente al settimo punto si parla della promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti insomma questo fa capire abbastanza chiaramente come al centro di tutte le attività che dovrebbero essere a tutela degli animali non umani comunque fondamentalmente c'è l'essere umano e tutto quello che ruota soprattutto l'aspetto zootecnico quindi tutta la tecnica e l'economia applicata allo sfruttamento degli animali che in modo molto arrogante antropocentico chiamiamo animali da reddito detto questo detto questo voi capite che io mi sono trovato a lavorare come responsabile di tutti gli animali allevati sull'isola carcere di Gorgona in una situazione molto complessa perché da una parte dovevo curare gli animali e dall'altra parte dovevo assistere senza nessun intervento ovviamente diretto da parte mia alla loro morte e alla loro uccisione cioè da una parte li curavo nel modo migliore con la medicina omepatica portandoli al pieno benessere al pieno livello di maturità non solo fisica ma anche mentale anche emotiva direi spirituale e relazionale con le persone che su quell'isola dovevano e devono scontare una pena ed uscirne migliorati poi dovevamo assistere all'uccisione per produrre cibo di questi soggetti della relazione capite che questa cosa in generale è sbagliata ma in quel luogo e che in base all'articolo 27 della nostra Costituzione è deputato a produrre non formaggi carne e uova ma persone migliori a rieducarle a rieducarle noi stavamo compiendo uno degli atti più aberranti ci stavamo uccidendo il soggetto della relazione terapeutica della relazione rieducativa quindi è un atto completamente sbagliato e io mi sono sforzato in questi anni di far capire quanto fosse sbagliato e anche di dimostrare nella pratica come l'etica poteva essere tradotta in atti concreti riuscendo negli ultimi anni a aprire una piccola finestra su questo sogno e a realizzare quell'esperienza di rottura del cammino di sfruttamento e di uccisione salvando tutti gli animali sull'isola grazie all'intervento del direttore illuminato Carlo Mazzervo che poc'anzi ha nominato Luigi Lombardi Vallauri poi questa cosa è stata interrotta e poi è stata ripresa in tutto questo lungo percorso ovviamente non sono stato da solo ma è stato un lavoro di comunità un lavoro collettivo dove hanno partecipato tante persone tra cui appunto Dora Greco altri amici dell'associazione Lorenzo Guadagnucci Camilla Lattanzi e ovviamente anche Luigi Lombardi Vallauri il quale per raccontare anche un po' di storia ha scritto un capitolo in questo libro che conteneva per la prima volta la carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona che doveva essere un po' una sollecitazione ad accendere i riflettori sugli animali allevati e poi uccisi anche con il contributo delle persone detenute in un'isola che invece poteva essere il primo esperimento tra virgolette al mondo di chiusura e di sospensione definitiva di ogni forma di sfruttamento e morte degli animali presenti questa cosa si è realizzata e conclusa recentemente cioè a gennaio del 2020 grazie ad un accordo che si è stabilito che si è sancito tra l'amministrazione penitenziaria il comune di Livorno il garante dei diritti dei detenuti Milano Bicocca e la LAV che è stata l'unica associazione con le spalle forti per poter affrontare questo impegno anche economico e poter garantire il compimento di questo lungo percorso per cui oggi Gorgona l'isola di Gorgona la casa dell'eclusione di Gorgona è il primo carcere al mondo e anche l'unico penso luogo al mondo in cui è stato chiuso un macello ma anche tutta una filiera di sfruttamento quindi riproduzione produzione e morte non per motivi igienico-sanitari come spesso può accadere ma per motivi etico-rieducativi quindi in base ad un percorso razionale un percorso documentato testimoniato da innumerevoli incontri innumerevoli conferenze diversi libri abbiamo siamo riusciti a come dire a far prevalere a far valere il principio che in genere sbagliato ma in un luogo deputato alla rieducazione di persone che hanno anche commesso reati di sangue l'ultima cosa da fare è quella di uccidere il compagno l'amico della relazione di una relazione che è una relazione coevolutiva per cui Gorgona oggi vede tutte queste attività di morte e di sfruttamento completamente e spero per sempre sospese e interrotte io spero anche che a questo si abbini anche uno smantellamento fisico dei luoghi deputati alla macellazione e sostituiti da altre attività non violente alimentari o non alimentari in modo da come dire neutralizzare completamente ogni eventuale belletà di ripristinare attività di questo tipo e questa cosa deve diventare una pietra miliare anche per azioni future cioè Gorgona deve diventare un punto di riferimento anche per il futuro per questo motivo anni fa fu creato questo sito che si chiama Onda Mica perché da lì partiva questa onda di idee e di amicizia che doveva raggiungere tutti per promuovere la non violenza e il rispetto di tutti gli esseri viventi a tale proposito e concludo vi ricordo che in un giorno di primavera credo di poco tempo fa Luigi venne a trovarmi qui al mare io abito a Migliarino Pisano vicino il mare perché voleva vedere il mare insieme a me parlare un po' dei libri eccetera e io in modo del tutto spontaneo e estemporaneo gli feci un'intervista video che che potete trovare che potete trovare appunto sul sito Ondamica e quindi vedrete Luigi che parla guardando il mare di fronte io concludo qui e ovviamente ringrazio tutti Luigi e soprattutto la casa editrice per aver messo a disposizione scritti di fondamentale importanza per tutti e soprattutto parlo per la mia professione per i giovani veterinari che si avvicineranno ad una situazione in cui incontreranno molti tabù e molti ostacoli a mettere in pratica quello che vi ho letto all'inizio del giuramento professionale e del codice deontologico grazie Marco grazie esagerando forse leggermente esprimo il desiderio che il mondo somigli sempre più all'isola di Gorgona e a questo punto noi concludiamo credo che chi ci ha seguiti ha capito la straordinaria varietà e ricchezza delle prospettive sugli animali oggi c'erano i sei personaggi tutti autori ce ne sono tanti altri quindi non è niente unilaterale non è niente che sia solo su un livello di militanza diciamo irrazionale credo che sia come dicevo una questione epocale e concludo ripetendo il mio mantra e rivolgo a tutti i presenti agli ascoltatori possa la vostra vita possa la nostra vita accrescere la bellezza della storia dell'essere ridurre la terribile crudeltà della storia dell'essere ci chiedevamo qualcuno è interessato a porre delle domande a intervenire in qualche modo in modo tale che i relatori possano rispondere questo desiderio ora così posso parlare certo certo no volevo dare un'informazione che mi sembra bella se non è stata data perché mi sono dovuto assentare un secondo l'università di Milano di Bicocca da questo novembre al febbraio del 21 in persona della professoressa Diana Cerini con la quale ho parlato ha istituito un corso sul diritto e benessere degli animali per l'approfondimento l'aggiornamento e l'acquisizione di competenze specialistiche sul diritto degli animali eccetera eccetera mi sembrava una buona notizia dico a Luigi che saluto che non so se la Diana ti ha chiamato perché l'ho informata del tuo libro e le ho proposto di eventualmente darti uno spazio per un inquadramento filosofico volevo dare questa notizia e ringrazio comunque tutti grazie Carlo abbiamo in comune tante di quelle storie a cominciare dal Nepal più di 30 anni fa nel nostro pellegrinaggio in Himalaya ma io ho proposto il corso di diritto animale a 5 università e tutti hanno detto sì bisogna proprio farlo questo è stato il contributo invece adesso apprendo che Milano Bicocca sta partendo sono molto grato a Diana Cerini e le auguro pieno successo ma un po' come è stato per il diritto ambientale tanti anni fa sembrava una cosa strana e adesso viene insegnato in tutte le università fin dal livello del diritto costituzionale ma giù giù anche a livello delle leggi ordinarie oggi c'è una contraddizione grave tra i principi generali animalisti e le leggi speciali che rendono l'eccezione cento volte più grave della regola speriamo che il diritto cambi e continuo a ripetere che stasera speriamo di avere accresciuto un po' la bellezza e diminuito un po' la crudeltà della storia dell'essere non so se ci sono altri che vogliono intervenire buonasera sono alberta manni posso intervenire certamente lo faccia pure se vuole anche essere visibile attivi il video purtroppo ho provato a mettere il video ma il mio computer è veramente scra ecco qua no poi era qualcun altro va benissimo non importa se vuole fare una domanda è svanita è svanita invece non ci tengo vabbè mi portava anche a me ma non riesco devo andare via no 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 rimani pure però chi aveva posto la domanda non è più visibile per qualche ragione beh in attesa che si risolva questo problema tecnico qualcun altro ha desiderio di porre qualche domanda sì sono Sergio Giovannini benissimo posso parlare? certo certo bene intanto saluto il professore che ho avuto l'onore di conoscere con Marco Verdone quando andammo a Bologna insieme e passiamo una bellissima giornata e ascoltarlo è sempre estremamente emozionante e stimolante io da parte mia come forse il professore non so se si ricorderà ma Marco sa benissimo mi occupo di ambiente e mi riallaccio un attimo a questa ultima citazione di quando il professore diceva che proponendo il diritto ambientale sembrava di proporre chissà cosa e lontano da poter essere un domani sensibilizzato all'interno delle università io purtroppo per questo sono un pochino pessimista perché vedendo quello che purtroppo succede all'ambiente e di cui non riesco a dare una spiegazione logica in tanti comportamenti autolesionisti capisco quanto sia poi difficile portare su un livello di ragionamento chi dovrebbe abbracciare e sposare la questione animale e quindi sposare quello che il vegan può rappresentare per il futuro dell'umanità comunque mai demordere Marco Verdone ci ha insegnato che alla lunga poi batti e ribatti si piega anche il ferro e noi andiamo avanti e io vi ringrazio tutti per tutto quello che fate grazie anch'io ho un bellissimo ricordo di quella giornata ringrazio e faccio quello che bisogna dire è che il pessimismo non ci deve influenzare cioè come diceva Aldo Capitini il convinto non vuole essere necessariamente vincente sono io il luogo su cui posso scommettere con successo non devo fare le cose solo se prevedo che siano vincenti anche perché se poi sono sicuramente vincenti forse il mio contributo è superfluo quindi uno dei miei tanti aforismi è che solo l'utopico è utile mi piace che le due parole cominciano con uti sono un innamorato delle parole e credo che sia vero che l'utopico è la cosa più utile perché è quella che fa la storia e se mi aggiungo al vincente chi lo sa forse sono superfluo grazie 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 della risposta qualcun altro ha delle domande dei contributi dei ringraziamenti qualcosa di questo genere altrimenti possiamo credo scusate ci riprovo ah perfetto scusate sono sempre Alberto Magni era caduta la comunicazione ci riprovo la suggestione che volevo dare era questa io canto in un coro e abbiamo cantato lo scorso anno quando ancora si poteva un bellissimo madrigale di Gesualdo sparge la morte ho sentito parlare molto di morte di animali senzienti in questo incontro il problema per me non è tanto la morte come anche il bellissimo madrigale ripropone e soprattutto la storia di Gesualdo piena di sangue e di morte che poi si è trasformato in arte e splendida musica ma il problema è il rispetto per me e il madrigale sparge la morte dice la morte sparge al mio signor nel viso tra spalli di pallori e tostissimi orrori poi la morte lo rimira e ne diviene pietosa geme sospira e più ferir non osa il rispetto cioè il guardare di nuovo il rispetto di nuovo problema di connessione Temo ho trovato il testo nel caso ma purtroppo Temo si è stato nuovamente presente un problema di connessione e diciamo che a meno che non si riconnetta nei prossimi istanti si può chiudere la sì certo allora ringrazio per il madrigale e rinnovo l'espressione della mia gioia di avere pubblicato proprio con l'editrice Gesualdo perché mi vanto di pubblicare con editori non commerciali e ho aperto la collana visionari con questo libro ma sono venuto subito dopo l'edizione critica delle opere di Gesualdo un volume monumentale prezioso su un autore prezioso quando sono stato a Gesualdo era fantastico perché il teatro era il teatro Gesualdo il bar era il bar Gesualdo il castello era il castello del principe Gesualdo l'editore si chiamava Gesualdo è un posto tutto Gesualdo quindi visto che il libro è di Gesualdo io termino così ringrazio ancora di quello che fate ringrazio tutti quelli che sono intervenuti e spero che da qui come da una pietra gettata in uno stagno partano onde di miglioramento della storia sì vorrei fare una proposta vorrei fare una proposta concreta di riaprire tutti i microfono per ogni istante per fare un applauso collettivo a tutte le persone organizzazioni associazioni che operano costantemente per una società migliore una società sicuramente desiderabile quindi se state d'accordo e state aprite tutti i microfono e si fa un applauso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti salutato ma diamo un saluto ufficiale a questo punto allora un saluto cosiddetto ufficiale e un abbraccio a tutti ripetendo un'ennesima volta l'augurio che sappiamo vivere all'altezza delle meraviglie che siamo e certamente la compassione l'amore l'interesse per gli animali non può che migliorare anche noi che è